Una svolta, un'altra. Nel caso Panaro, il commerciante paolano prestato alla politica ha ucciso 31 anni fa per essersi ribellato all'andrangheta. Il DNA dell'unico resto osseo trovato al cimitero combacia con quello del figlio Paolo, che negli anni non ha mai smesso di lottare affinché emergesse la verità. Ora lui e sua sorella Antonella saranno riconosciuti come vittime di mafia, ma soprattutto potranno affiggere una lapide ad una tomba. L'agosto scorso alla manifestazione organizzata dal PD aveva presenziato anche il sottosegretario della giustizia Cosimo Maria Ferri e il sindaco di Paola Basilio Ferrari oltre al deputato Ernesto Magorno. Una testimonianza forte che tutta la città volle dare per ricordare quell'episodio archiviato troppo in fretta come caso di Lupara Bianca. Già, perché di Pompeo Panaro si persero le tracce dal 28 luglio dell'82, salvo poi ritrovarne i resti 11 mesi più tardi. Resti che dopo l'autopsia spariscono nel nulla per riaffiorare poi in un loculo senza nome. Da quel contenitore riesumato nei mesi scorsi è spuntato un frammento osseo che ha raccontato la verità e che mette la parola fina ad una lunga storia di giustizia, fortunatamente questa volta non negata.